e mi piace vedere come interviene l'allenatore nel momento di potenziale difficoltà e allora la mossa da primato di conto è riuscire nell'intervallo a sceglie a capire innanzitutto che la squadra era troppo bassa che il como dominava il centrocampo negli ultimi 15 minuti il como aveva più del 70 per cento di possesso palla diventava fondamentale arginare l'inferiorità numerica che il napoli aveva in mezzo al campo con il como che portava un terzino in mezzo oltre ai già due centrocampisti perrone sergi roberto riuscendo ad alzare nico paz un'inferiorità numerica che conte ha semplicemente ma con una mossa efficace ribaltato napoli ora difende a 5 ci siamo accorti politano fa una sorta di quinto di lorenzo si schiaccia poi ci sono racmani buongiorno liveira qual era il punto che poi il centrocampo rimanevano solo tre giocatori facendo allargare varaschielli a sinistra arginando il terzino destro del como anghissa poteva slittare sulla destra andando a prendere moreno in questo modo è tornata la parità numerica in mezzo al campo e nico paz ha toccato la metà dei palloni che ha toccato nel primo tempo quindi ho voluto un ponte elastico bella bella oltre che esaltare i giocatori per quello che fanno perché citiamo ancora mcdominei ormai ogni puntata deciso che continuerò a citare mcdominei finché domina nei chilometri percorsi perché ancora sarà fino alla fine della stagione questo c'è la propria c'è questo sarà il suo mcdomina quindi la grande forma quindi mentre fabregas cita lo botca tu lo fai invece con lo scuzzese anche l'altro per la sua evoluzione cioè l'abbiamo visto fare il play toccare tanti palloni ma nel primo terzo ora lo botca tocca tanti palloni ed è preciso nella metà campo avversaria in mezzo al campo diventa determinante avere un giocatore con quella pulizia quella anche capacità di imbucare di verticalizzare in quella zona di campo soprattutto se il tuo centro avanti è lucacco